Queste mie considerazioni forse non l'avete mai ascoltate da nessuno. In Italia abbiamo tantissimi maestri di lancio. Come mai le loro esibizioni avvengono sempre su di un prato o in una palestra o in un tratto aperto di fiume? Mai e poi mai in azione di pesca reale? La loro professionalità è realmente come la raccontano? Puntini puntini o la sanno solo raccontare? Al momento sto usando una canna in graffite di 8 piedi e mezzo per coda 4 ed un classicissimo finale da ninfa praticamente lungo 2 metri 50 con un tip di un metro circa. In questa classica tecnica non si usano imitazioni eccessivamente pesanti. Un filo di rame girato intorno al gambo o un filo di piombo sempre girato intorno al gambo sono il massimo consentito su queste imitazioni. La situazione del video è una delle più semplici che possano capitare lungo un qualsiasi torrente. Esegniamo un lancio leggermente ondulato come se pescassimo praticamente a mosca secca. Dall'immagine si può vedere chiaramente il punto di caduta della ninfa e di esumere la traiettoria che seguirà insieme alla corretta. Fino a qui niente di particolarmente difficile da seguire. Da questo momento in poi dovremo tenere sotto controllo la punta della coda di topo per notare eventuali trazioni ed eseguire una pronta ferrata. Come si può ben vedere da tutta l'azione la ninfa viene portata a distanza con l'ausilio della coda di topo. Non è prevista mai il passaggio dell'imitazione sotto ai piedi come in altre tecniche da me definite da diversamente abili. Quindi, tutto sommato, non ci sono grandi difficoltà in questa tecnica. Mi chiedo a volte il perché viene poco praticata. Visto e considerato che secondo me è una delle tecniche più micidiali in assoluto per pescare sul selvatico. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. Non ci sono un'attività, ma non ci sono un'attività. non ne vuole proprio sapere ad entrare in riguadino praticamente dopo averla guadinata e rilasciata ho smesso di pescare e me ne sono tornato tranquillamente a casa per oggi basta e avanza questa è limitazione usata nella cattura la pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche è solo diversa diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai soprattutto è una tecnica che va amata e come in tutti i grandi amori per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere